Sono poco meno di 176.400 le imprese italiane che si trovano in sofferenza e sono quindi a rischio usura. Tra queste, una su tre è al sud. Roma, Milano, Napoli e Torino sono le realtà territoriali maggiormente in difficoltà. Si tratta di società non finanziarie e famiglie prodotteci segnalate come insolventiti dagli intermediari finanziari alla centrale dei rischi della Banca d'Italia. Lo rileva la CGA, secondo cui, per evitare che la platea di queste aziende in difficoltà aumenti, il governo dovrebbe potenziare le risorse a disposizione del Fondo di Prevenzione dell'Usura e aiutare le banche a sostenere le imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione. Grazie all'attivazione di queste due misure, lo stock complessivo delle aziende in sofferenza non dovrebbe crescere. Vola l'inflazione nell'area euro. Ad agosto il tasso di crescita è pari al 3% su anno, in accelerazione anche rispetto al 2,2% registrato a luglio. Un anno prima il tasso era negativo per lo 0,2%, lo comunica Eurostat. Sempre ad agosto l'inflazione tendenziale dell'Unione Europea è risultata del 3,2%, in aumento dal 2,5% di luglio. Il contributo più alto alla crescita dell'inflazione è arrivato dall'energia, seguita dai beni industriali non energetici, alcol e tabacco e servizi. I tassi annuali più bassi sono stati registrati a Malta, Grecia e Portogallo, i più alti in Estonia, Lituania e Polonia. Drastica caduta della spesa per il turismo in Italia. Nel 2020 i pernottamenti degli stranieri nel nostro paese sono diminuiti del 54,6%, quelli dei residenti all'interno dei confini del 32,2%. Sono le stime provvisorie di Istat, soggette a revisioni relative ai principali aggregati del conto satellite del turismo del 2020. In un anno si è registrato un calo di oltre 63 miliardi di euro per il consumo turistico interno e di 31 miliardi per il valore aggiunto, che scende bene al di sotto dei livelli del 2010. 68 miliardi nel 2020 contro 80 miliardi. Il calo dell'attività turistica ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia. Per una maggiore lotta all'evasione fiscale, anche chi è inquadrato nel regime forfettario, nel 2022 sarà obbligato ad usare la fatturazione elettronica. Rammentiamo che può essere inquadrato nel regime forfettario chi l'anno precedente ha svolto un'attività in forma individuale o un'attività professionale sempre in forma individuale, incassando meno di 65 mila euro. e anche chi prevede di, iniziando un'attività, di incassare meno di tale somma. Tra le altre cose il vantaggio del regime forfettario consiste nel pagare una tassazione fissa del 15% per le attività preesistenti e per quelle nuove addirittura del 5% per 5 anni. Grazie a tutti.